Come non aver male al sedere quando si va in bicicletta? Se andate tanto in bicicletta vi si creerà il cosiddetto callo e a quel punto nessuna sella vi farà più male, nessun fondello sarà veramente fondamentale. Però se non ci andate così spesso, un trucco è quello di abbassare un po' la punta della sella. Potete vedere che questa sella è perfettamente in bolla, ora abbasso la punta svitando le due viti che si trovano qua sotto, l'abbasso senza esagerare, infatti basta a qualche grado perché si possa trarre beneficio e non aver male al sedere quando si va in bicicletta.